Continua il clima di tensione per l'arrivo di Vincenzo De Luca in città per l'inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza che si svolgerà il 16 gennaio. Ad accompagnare l'inaugurazione non sono state solo le tante polemiche, a partire dalla decisione di cambiare il nome della via in cui si trova la caserma da via Antonio Scarpa a via Fiamme Gialle, ma anche il movimento di protesta che si sta organizzando ad Agropoli e a cui prenderanno parte molti cittadini, al fine di manifestare contro il presidente della regione Campania, accusato per le sue mancate promesse e il pessimo operato riguardo all'ospedale di Agropoli. Sulla questione protesta è rientervenuto il sindaco Coppola che aveva invitato ad accogliere De Luca, essendo un ospite e non essendo presente per fare campagna politica. Ma le sue parole non hanno fatto altro che accrescere l'astio e la convinzione di questa protesta. Per far calmare le acque la minoranza ha pensato di realizzare un manifesto che è stato affisso per Agropoli. Nel manifesto firmato da Gisella Botticchio, Agostino Abate, Natalino Caccamo e da Michele Pizza si accoglie con gioia questa nuova sede per la Guardia di Finanza e si invita a non dare i meriti della realizzazione della caserma a nessun schieramento politico ma alla comunità. E' questa un'occasione giusta per augurare alla nostra città Agropoli un percorso di condivisioni e programmazioni utili per lo sviluppo dell'intera comunità, privo di inutili e deleteri personalismi. Noi sottoscritti rappresentanti delle forze politiche di opposizione ci adopereremo alla ricerca di un confronto aperto all'intelligenza, ai cuori e alle coscienze. Con queste parole anche la minoranza pratica calma e invita ad un confronto aperto, senza cadere in situazioni che renderebbero una giornata importante per Agropoli un brutto ricordo.